Il cancro per il comune di Catania e lo stato dei conti è sotto gli occhi di tutti, ma perché non succede assolutamente nulla? La cosa incredibile è che le cose sono successe, perché i miei che ha fatto la Corte dei Conti che per legge deve controllare che i comuni in piano di riequilibrio finanziario attuino quel piano di riequilibrio finanziario, che vuol dire che un comune ha speso più di quello che poteva spendere, incassa meno di quello che serve per coprire le spese, sostanzialmente lo spiego in maniera semplice e quindi lo Stato gli chiede fammi un piano per vedere se riesci a rientrare. Tutto questo è successo e la Corte dei Conti nel controllare che il comune di Catania effettivamente attuasse il piano di riequilibrio finanziario ha sollevato tutta una serie di questioni e soprattutto aveva bisogno di tutta una serie di documenti per valutare che il comune di Catania stesse facendo tutto quello che doveva fare per legge, ma documenti importantissimi perché per esempio mancano i documenti relativi alla compensazione tra crediti e debiti della Bad Company, della MT liquidazione, cosa che noi abbiamo chiesto, o i verbali tra il comune di Catania e la società Sidra che certifichino la conciliazione dei debiti e manca anche l'indicazione esatta che ha chiesto la Corte dei Conti dei debiti fuori bilancio. Quindi non è che stiamo parlando di cose che non hanno importanza per la vita dei cittadini catanesi, ma per un semplice motivo, perché i cittadini catanesi qualunque errore dell'amministrazione la pagano in due modi, o non hanno più servizi o devono pagare più tassi, o l'uno o entrambi. Quindi è chiaro che è una cosa che ha un'immediata ricaduta nella vita dei cittadini, a parte i vincoli economici e di bilancio che esistono sia a livello nazionale che a livello europeo che vengono applicati anche ovviamente agli enti locali. Quindi ci sembra assurdo appunto che nonostante tutto questo non si riesca a cavare così un ragno dal buco e risolvere la questione e addirittura fino a due giorni che fa la denuncia incredibile per cui sono stati utilizzati in maniera diciamo irregolare dei soldi che appartenevano all'AMT per così dicono per pagare invece debiti del comune di Catania, si dice addirittura per gli stipendi e il personale. Quindi siamo arrivati secondo me alla follia totale, non si può governare così una città, il sindaco bianco deve prendere in mano veramente la situazione come non ha fatto finora secondo noi e attuare per filo e per segno il piano di equilibrio finanziario fornendo tutta la documentazione necessaria affinché la corte dei conti possa svolgere il suo cuore. Qual è la soluzione per la ricetta dei 5 stelle per Catania? Ma intanto si parte da là, quindi innanzitutto bisogna capire se mai dovessimo arrivare al comune da questo, cioè dal bilancio quindi l'entrata, le uscite eccetera. E poi noi abbiamo una visione completamente diversa dalla vecchia politica. Qui quando chiedi cosa fai per l'amministrazione ti rispondono sono andato a elemosinare 30 milioni alla regione piuttosto che 30 milioni. Noi invece crediamo che il comune debba trovare delle fonti di guadagno, per esempio senza andare lontano la differenziata, come fanno molti comuni virtuosi, 5 stelle non, in diverse parti d'Italia molti comuni sono riusciti a fare cassa anche utilizzando la raccolta differenziata e vendendo i rifiuti differenziati alle aziende che producono, cioè che poi riciclano quei rifiuti o che a loro volta li rivendono, questo non ci interessa. Creando un indotto dal turismo, qui sono giornaliere le denunce di persone che non riescono a entrare perché sono chiusi i principali monumenti storici della città, mettendo veramente a reddito il porto di Catania, abbattendo quello scempio che rende impossibile vederlo e diciamo capendo come vengono spesi anche i soldi nel porto di Catania e come vengono assegnati gli spazi, aumentando la funzionalità dell'aeroporto di Catania e quindi creando tutto un indotto e poi mille idee che si potrebbero avere per rilanciare anche l'impresa locale. Insomma una visione diversa, gli impianti sportivi e Catania sono assolutamente in questo momento abbandonati pur avendo una buona rete. Insomma idee ce ne sono tantissime, bisogna cercare di pensare secondo noi anche in una maniera diversa, quindi non pensare di fare la politica semplicemente chiedendo l'elemosina, ora a destra o la banca perché non si hanno idee per governare, ma mettendo frutto idee condiviste con i cittadini che i cittadini vogliono per migliorare questa città e per creare un'economia anche locale sia di piccolo taglio, tra virgolette, che è di più grande taglio, di più grande visione anche con imprese più grandi e con progetti più importanti, anche con l'Unione Europea dove però finora i soldi qua stranamente quando arrivano finiscono in buchi neri per cui non c'è nessuna ricaduta, vedete che ricadute abbiamo di tutti i fondi europei che abbiamo utilizzato in questa città. Quindi i modi ci sono, ci vorrà tempo e volontà. Non avere un referente al Consiglio Comunale sicuramente non aiuta, ma l'idea è che il Movimento 5 Stelle in questo momento su Catania sia un po' fermo. La festa di domani per rilanciare anche l'attività del Movimento? Sì, sì, sì. Allora io questa cosa la voglio spiegare perché non bisogna fuggire dalle responsabilità e io vorrei fare molto di più per la città di Catania, vi dico onestamente questo. È vero anche che io sono una deputata e come recita la Costituzione italiana io rappresento la nazione in Parlamento, non rappresento solo Catania, non rappresento solo la Sicilia e quindi cerco di interpretare questo mio ruolo per come la Costituzione mi dice. Questo mi obbliga a dover interessarmi di tante cose. Noi abbiamo purtroppo e anche per colpa nostra perso le elezioni comunali l'ultima volta e quindi non avere dei consiglieri nella città è un grande problema e questo ci rende molto molto più difficile, quindi deve essere un nostro impegno e anche una nostra sfida personale alle prossime elezioni a fare molto di più per aiutare questa città ad avere un minimo di respiro e le direi che vogliamo vincere, però guardi io preferisco fare un passo da volta, quindi se prima di vincere è necessario entrare in consiglio comunale faremo anche questo come abbiamo fatto anche in tante altre realtà e poi magari ci sarà un secondo momento. In ogni caso così non è possibile andare avanti.